Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Questa mattina cerimonia commemorativa dell'eccidio delle fosse ardiatine partirà dalla Garbatella, un corteo che arriverà al mausoleo ardiatino passando anche per Tormarancia. Nel pomeriggio invece in centro manifestazione sindacale a via Molise e possibili ripercussioni per la viabilità nell'area tra via Bissolati, via Veneto e piazza Barberini. Le altre notizie dal primo aprile, novità per la rete di bus nel nono municipio. In particolare modifiche interesseranno le linee di bus 708, 708 Scuola, 787 e 795.